Oggi le rose sbocciano davvero facilmente Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Oggi un nuovo video dedicato alle rose Rose in materiali differenti Oggi giocheremo, anzi creeremo con il feltro, il fommi E se volete anche col pannolenci Ci decidete voi, vi farò creare in 4 e 48 delle rose facilissime Non ci credete? E allora venite con me sul piano da lavoro E andiamo a fare sbocciare le nostre roselline Ed ecco l'occorrente per creare delle semplicissime rose In pannolenci, feltro o fommi Scegliete voi il materiale, la tecnica sarà la stessa Pistola per colla a caldo e relativa a stecca Un righello, una penna per segnare i punti che ci serviranno Un cutter o un paio di forbici E poi naturalmente il materiale prescelto Io qua ho del feltro Spesso 3 mm Oppure del fommi Spesso 2 o 3 mm O del pannolenci La stessa identica cosa Facciamo un rettangolino Prendiamo la misura di un rettangolino Che sia 3 cm per 20 circa Segniamo anche i 3 cm ad 1 ad 1 Quindi 1, 2 e 3 Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte Io sto tracciando le linee con un colore a contrasto Affinché voi possiate intravederle quantomeno A questo punto ritagliamo Dapprima il rettangolino 3 cm per 20 E poi tagliamo le striscette Che ne vengono fuori dalla divisione dei centimetri Quindi le 3 striscette Non tagliamo tutto Arrivato a un centimetro circa Dal margine superiore Ci fermiamo E voilà A questo punto quello che avremo sarà questo Quindi Cominciamo ad avvolgere una treccia Portando sopra il lembo centrale Gli altri due lembri Prima quello di destra Poi quello di sinistra Prima quello di destra Poi quello di sinistra Sempre sopra quello centrale Arrivati alla fine Non facciamo altro che Fermare il tutto Con un punto di colla a caldo Cercando di non bruciarci A questo punto non faccio altro che Mettere un punto di colla su quest'angolo E piegarlo in dentro Così Quindi Stringere attorno E con un punto di colla fissare Piegando Arrotolando Quindi Metto la colla a caldo Lungo tutto il corpo della treccia E Cercando di non bruciarmi Arrotolo La mia trecciolina E voilà Ed ecco la rosellina Bella e pronta Più lunga sarà la treccia Più grande sarà la nostra rosellina Cercando di non bruciarmi Ciao 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 Per un bocciolino Basterà una treccia da 20 cm Da 15 Mentre per una rosellina più grande Una treccia da 30 cm Da 35 Decidete voi Queste sono fatte con il feltro Adesso vi faccio vedere Come è altrettanto facile Farle con il fommi Dividiamo I vari segmenti Da un centimetro Lasciandoli uniti Dalla parte superiore Per mezzo centimetro circa E adesso Come prima Iniziamo Ad intrecciare Portando Le fasce laterali Sopra quella Al centro Sopra quella Che via via Si viene a trovare Al centro Si intreccerà Tutta storta Tra le vostre mani Non vi preoccupate Vi basterà tirarla Per darle una forma Ordinata Arrivati alla fine Tiratela ben bene Così E appiccichiamo Gli ultimi lembi L'uno sull'altro Con un punto di colla a caldo Eliminiamo gli eccessi Uno E due A questo punto Quello che avremo Sarà questa Trecciolina Quindi Prendiamo questa parte E Con un punto di colla Portiamola in basso Così Quindi Cominciamo ad arrotolare Questa parte Su se stessa E voilà E piano piano Aggiungendo la colla Arrotoliamo tutta la lunghezza Della trecciolina E voilà E l'altra rosellina È bella e pronta Che sia in fommi O in feltro O in pannolenci Che io qui non ho con me Delle belle roselline In pochi istanti Con tanta tanta creatività E molta molta facilità Per le vostre decorazioni più belle Quindi sbizzarrite la creatività Ci vediamo subito dopo le foto E lasciatemi un pollice in su se vi va A dopo Visto che è facile A fare le nostre rose Una trecciolina Una arrotolatina E via Insomma Pochi materiali Poveri materiali Per delle rose bellissime Da comporre Su tutti i vostri manufatti preferiti Potrete creare cerchietti Fermagli Ma anche delle belle confezioni O composizioni Decidete voi cosa farne Ma fatene E fatene tante Ma prima di andare a fare le vostre rose Lasciatemi un pollice in su Condividete questo video Venitemi a trovare Su facebook E su instagram I link li trovate qua sotto E non dimenticatevi Di iscrivervi al canale E di cliccare sulla campanella Per ricevere le notifiche Per tutti i video futuri Di arte per te E noi ci vediamo Proprio in un video futuro Sempre qui Sul vostro canale preferito Da ombretta E da arte per te Tutto Alla prossima volta Ciao Ciao